Livello arancio e blocco dei diesel Euro 4, resta alto il livello delle polveri inquinanti a Padova e così almeno fino al lunedì 14 gennaio dalle 8.30 alle 18.30 i veicoli inquinanti dovranno rimanere in garage, una situazione che preoccupa anche sotto il profilo della salute dei cittadini. Rispetto ad altre volte in passato prendiamo atto del fatto che ci sono per esempio un buon numero di pazienti con reacutizzazioni d'asma, cosa che normalmente non avviene in questa stagione. Le statistiche parlano chiaro, questo inquinamento sta portando ad un aumento di ricoveri ma anche di accessi al pronto soccorso. Sia dal punto di vista dei ricoveri e in maniera minore degli accessi al pronto soccorso notiamo che c'è probabilmente un impatto di questa esposizione atmosferica sulla popolazione di pazienti. I soggetti più a rischio per problemi all'apparato respiratorio sono i portatori di malattie croniche che vedono aggravarsi la loro situazione ma anche bambini e anziani. Bambini perché tra i bambini ci sono ancora più asmatici che non tra gli adulti, anziani d'altra parte perché sono portatori di una serie di malattie croniche, di molte patologie che a fronte di questa esposizione rischiano di peggiorare tutte insieme. Il fatto che la pioggia quando arriverà apporti un beneficio immediato e una riduzione del rischio in quel momento è un dato di fatto ma non basta a eliminare i problemi. Poi c'è un secondo tipo di rischio e cioè il rischio nel corso del tempo. Allora il fatto di esporsi più e più volte nel corso dell'anno o nel corso degli anni a questi irritanti atmosferici può determinare anche dei danni a lungo termine che non è che vengono ridotti dal fatto che oggi piove o no. Il traffico secondo le stime incide per meno del 40% sull'inquinamento, poi ci sono anche il riscaldamento e perfino le stufe a pellet. Non resta molto da fare. Non ci resta che fare una piovosa primavera.